Se ne mangi uno, inizi a ballare la samba. Io li preparo facendo sciogliere il burro in un pentolino con l'aggiunta di cacao in polvere, mescolando con una frusta e stando attento specialmente agli angoli. Dopo un minuto aggiungo il latte condensato e con l'aiuto di una spatola cuocio a fuoco medio-basso stando sempre attento ai bordi e al fondo. Dopo 5-10 minuti ottengo un composto a mo' di caramello. Non mi resta altro che versarlo in un piatto e aspettare che raffreddi. Una volta che il composto è freddo, inizio a formare delle palline che faccio rotolare in diversi tipi di decorazioni. Se vuoi, puoi farcirla con della frutta fresca o noci, coprendole col cocco grattugiato in modo da distinguerle dalle altre. Questi sono i brigadelli.